Ciao a tutti io sono Rossi e lei è Sara e oggi siamo nel nostro primissimo daily vlog Oggi faremo la bottle flip challenge, guardate la sua bella maglia Sofì non ce l'ha In questi daily vlog faremo cosa da cavolo di cane quindi puoi anche fare la stupida Ma oggi faremo la bottle flip challenge quindi vi passiamo la clip Ok raga Abbiamo messo nella posizione e possiamo iniziare Speriamo che questo daily vlog vi piaccia Aspetta mi sa che è un po' troppo pieno Ok 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 tocca a lei Oh incredibile Alla prima Tiriamo la porta Perché se ci sono tutti i nostri genitori Uno a uno Guardi No non è una bella No non è una bella Speriamo che sia registrando Perché Ok sta registrando Dovevo solo controllare se stavo registrando Ah No non è una bella Non facciamo il gesto Aspetta Nooo non fare il mio trick Ragazzi vi faccio vedere il mio trick Facciamo così e vi portava sempre fortuna in fasi la magia è ancora esplorata grande se lo fai chiama i carabinieri c'è da 18 3 a 1 la del furbi il furbi che non c'è la stella è qua e qua non tocchiamolo se no si sveglia poi si rompe le scatole anzi le scatole si brignoli non è ancora fatto io sono ancora uno si io sono 3 dai ciaretta ciao a tutti lui e lei e Sofì hai detto 3 a 2 i mei contro terra mi hanno portato la vittoria la fortuna la fortuna ciao a tutti cazzarola mei contro me tardiamo a furbi siamo 4 a 2 dai dai 1 2 mei contro terra no quasi ticota siamo 3 a 4 sì sì 5 a 4 5 3 5 3 adesso trick il trick la webcam si è salvata raga io non sono brava dai aspetta la devi farla con l'altra gamba la webcam piena webcam piena questa parte non la tagliamo è andata benissimo creeremo anche la playlist dei daily vlog quanta volta avrò detto che creerò che creerò le playlist adesso avrò detto ingaggi tu schivi non l'avrò detto qua se sono due volte si sono due volte gajizuski ah no volevi fare il trick gajizuski 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 devi senta si non posso dire quello che voglio scusate scusate e non devi dire quel nome prego male che ne devi dire tua voce quanti siamo? a... a... a 7 e a 3 a... a... 4 5 no sve... 6 a... 3 la scatola del full 73 73 che ci frega di ronardo noi siamo a 73 la webcam 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 brava vuoi beccare la webcam no non c'è neanche 118 perché sarà passata per 118 e l'ho capito da chi sarà da chi sarà nato non lo so da mio fratello stava portando a fortuna è che c'è un tric ah ma stai fuori sopra il full non ti accende scusate torta e uova in teglia così almeno lì si addormenta dai adesso me lo spegnete si si ma si spegne da solo adesso lo spacca il trucco il trucco il trucco il trucco il trucco il trucco i piedi e se 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 dai ultimi due tentativi per tutte e due 7 a 4 8 a 4 sono troppo forte 8 c dai andiamo avanti dai oh che non mi recupera dai col mancino no toccava meglio ah vabbè allora non ne vado ma diciamo che piedi questa qua è magica eh aspetta scatola del furbi inutile oh ti ho visto che hai fatto due oh tiratevi forte che lo vado a metà ma non ti ho prio sai come metterla ah si 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 scusa devo mettere la linguetta aspetta ti faccio vedere questa cosa e la linguetta e non so che andava messa lì però non riuscivo dai c'erano i cosini bianchi che andavano per ho capito ma non ero bianchi dai ultimo tentativo per tutti cassarola vabbè vi lasciamo la clip super bebe per questo primo daily vlog con Massi e Sara è tutto noi speriamo che vi sia piaciuto un commento un like iscrivetevi attivate la campanellina noi ci vediamo nel prossimo video guarda Massi e Sara è tutto bella ragazzi